nome gabriele cognome de luca da dove vieni foligno provincia di perugia come si intitola il tuo libro il barone chi lo ha pubblicato alba drossi filo a quale genere appartiene narrativa sperimentale quanto tempo hai impiegato a scrivere questo libro dieci giorni descrivilo in tre parole trasgressivo fastidioso potente come dovremmo leggere il tuo libro dall'inizio alla fine anche dalla fine all'inizio c'è un tema ricorrente nel tuo libro no e un messaggio da portare al lettore no chi è il tuo lettore ideale un ragazzo in fase adolescenziale svelaci un tuo pregio è un tuo difetto pregio calma difetto egoismo hai dieci secondi per esprimere tre desideri non mi servono dieci secondi rispondo nel libro a questa domanda ti reputi una persona romantica non eccessivamente superstiziosa il giusto solitaria molto tecnologica il giusto ingegnosa il giusto impulsiva il giusto mandiamo un saluto a tutti i nostri ascoltatori un solo da tutti trovate il coraggio il tempo di leggere questo libro perché ne vale la pena per questa sera basta così speriamo di avervi svelato qualche segreto interessante ma di avervi dato anche dei buoni consigli vi ringraziamo per essere stati con noi e vi aspettiamo anche domani stessa ora stesso canale per una nuova puntata buona serata e buona lettura il libro che stiamo per presentarvi è una commissione di esperienze di momenti possiamo scegliere al suo interno quale poter vivere per lasciarci sorprendere per lasciarci guidare all'interno di queste emozioni vi presentiamo il barone scritto da gabriele de luca è pubblicato dal gruppo albatross il filo per la collana confini ciao gabriele buonasera claudia gabriele come nasce il tuo libro in realtà da una completa involontarietà non mi sento di dire altro non è stato programmato non è stato studiato un giorno mi sono seduto e è andato al suo all'interno di questo libro non troviamo un unico filo conduttore appunto potremmo leggerlo anche in chiave antologica scegliendo noi il tipo di brano in base alla lunghezza al titolo in base a quello che ci ispira in quel determinato momento l'idea è quella di fornire una gamma una ragnatela all'interno della quale muoversi e nel più totale relax scegliere lo stile di lettura la forma di lettura i tempi di lettura quando interrompersi e quando riprendere conversatilità l'idea è quella diciamo adattare a ritmo moderno abbastanza frenetico una possibilità di concludere un libro di 350 pagine con calma e relax affinché il lettore possa vivere un'esperienza comoda in un certo senso ma in un altro forse molto più scomoda ovvero quando si tratta delle esperienze che avremo la possibilità di vivere tra queste pagine l'idea è questa la calma deve fornire la potenza maggiore al racconto se io lo leggo che sono di fretta stressato non riuscirò mai a percepire la trasgressione anche che c'è all'interno di alcuni racconti la violenza che c'è all'interno di alcuni racconti quindi calma in chi legge nei suoi tempi ma nei contenuti dei racconti ripeto massima trasgressività anche un po di libertinismo anche un po di voglierismo perché no e cosa succede allora se il lettore cerca di esprimere un giudizio su questi racconti che tu ci porti anche su quelli più trasgressivi che difficilmente riuscirà a dare una connotazione oggettiva al suo giudizio perché molte persone che hanno letto questo libro non hanno trovato un impatto altre persone ne hanno trovato soltanto in due racconti altre in tre altre in quattro è questo secondo me il punto vincente di questo libro che non ha una sua forma finale ma è un po una sorta di molliccio che si che cambia anche colore e forma a seconda della persona che lo che lo prende in mano e che lo legge ed è anzi maggiormente possibile apprezzarlo nel momento in cui il giudizio viene messo da parte si lascia in un cassetto e ci si permette di vivere davvero quell'esperienza con pieno coinvolgimento assolutamente sì parto da una provocazione molto rapida sappiamo tutti che uccidere un uomo è sbagliato chiediamoci però come ci comporteremmo come giudicheremo noi stessi o una persona noi cara se dovesse fare una un'azione del genere che può capitare nella vita un omicidio non è certo una cosa nuova o rara insomma da incontrare no vediamo un tipo di movimento tra il terreno e la dimensione altra nel tuo libro come si articola questa connessione con continue commistioni diciamo l'obiettivo è quello di confondere un po anche il lettore non fargli capire quando è che stai toccando un aspetto reale della vita e quando è che invece stai toccando un aspetto metafisico appunto della vita io uso il termine indizio nel libro cioè lascerò e ho lasciato all'interno delle pagine alcuni indizi per farti capire magari quando un evento nasconde qualcos'altro dietro e non è semplicemente un fenomeno che è accaduto e il gioco degli scacchi in che modo influenza il tuo libro gioco degli scacchi è meraviglioso perché è pieno di regole pieno di schemi linee dritte geometriche non si può uscire da certi perimetri ma all'interno di quel contesto si possono creare delle forme assolutamente sempre nuove ci sono delle combinazioni infinite di mosse e quindi anche un bambino di otto anni nato in india può battere un fenomeno che ha studiato per 50 anni in america questo è quello che accade nel mondo degli scacchi il punto è il barone cioè l'uomo libero quel bambino di otto anni che ha battuto ad esempio fisher negli scacchi cosa ha dimostrato non è una preparazione tecnica è libertà è stato in grado di muoversi all'interno della scacchiera e ha vinto lui invitiamo allora i nostri ascoltatori a liberarsi dal giudizio e muoversi liberamente su questa scacchiera tra le pagine del libro il barone scritto vi ricordiamo da gabriele de luca e pubblicato dal gruppo albatross il filo per la collana confini grazie gabriele a te claudia ea tutti quanti grazie a tutti grazie a tutti